ritorno di un grande classico del passato il video in macchina sono in stazione sto aspettando che il mio treno parta direzione bologna dove incontrerò il buon chinoschi e dove poi andremo insieme a prendere un altro treno direzione roma perché oggi ci andremo a giocare la youtuber summer cup potremmo riuscire a portare a casa il primo trofeo stagionale per la juventus e salvare la stagione salvare tutto quello che abbiamo patito durante quest'anno no in realtà è iniziata già la nuova stagione dal primo luglio quindi il primo nuovo trofeo stagionale per non concludere ancora una volta zero titoli dopo vedrete tutte le foto tutti i video caricati sui vari canali e poi sicuramente qualcosa insieme a chino insieme a tutti gli altri sicuro brogna mastrangelo fede marconi i fius vedremo di fare qualcosa sicuramente interessante sono curioso di conoscere anche alcuni dei miei compagni di squadra juve che non ho mai incontrato e non conosco quindi il bello sarà bello anche questa cosa ti fate per noi e chi non ti farà più per noi ovviamente sono i giocatori che se ne sono andati dalla juventus in queste ultime anzi ore più che settimane ore perché è vero che magari qualche annuncio ufficiale ce l'avevamo già tipo quello di bernardeschi quello di dibala e dei non rinnovi quello di morata però il saluto vero e proprio della juve è arrivato soltanto il primo luglio e soltanto ieri vi dicevo che non sentivo da nessuna parte qualche voce inerente a federico bernardeschi che sembrava completamente sparito dai radar beh oggi partono alla grande le voci perché a quanto pare c'è un interessamento dei colcioneros per federico bernardeschi quindi l'atletico madrid di simeone devo dire la verità è una cosa che mi fa abbastanza sorridere perché il calciatore non me lo immagino di quel livello mi viene in mente un po' quando l'atletico madrid è andato a cercare cerci sarà perché sono mancini sono esterni sono italiani però mi sembra abbastanza quella la cosa tra l'altro cerce veniva da un grande campionato bernardeschi invece viene da una stagione migliore delle ultime due ma sicuramente non esaltante difficile che poi possa fare la differenza in spagna ma mai dire mai perché il calcio è pieno anche di questa storia qua e ragazzi invece il calcio è meno pieno di storie che raccontano come il capitano della juventus il vice capitano della juventus vadano via nella stessa sessione di mercato eventualmente insieme a mattais del it che poteva essere il futuro capitano della juventus e soprattutto che uno di questi tre poi possa finire in mls quindi chiellini ma ci sta per una ragione anagrafica quindi un campionato decisamente minore e un altro invece possa finire una neopromossa di serie a cioè il monza perché il monza avrebbe chiesto informazioni secondo gialluca di marzio a orgiantun procuratore di paolo dibala per cercare di aprire un sondaggio del tipo se alla fine non riesci a concludere con nessuno se non trovi squadra se non riesce ad andare all'inter noi ci siamo possiamo parlarne e già il monza ha preso cragno ha preso ranocchia ha preso sensi sta puntando che andrea quindi tutti i nomi che per la serie a sono ottimi ambizioso il monza di berlusconi e galliani a sondare non solo paolo dibala a orgiantun ma addirittura vandanara per maurito icardi pensare che il monza possa presentarsi al primo anno in serie a con dibala icardi fa sorridere ora io ci credo poco non tanto al fatto che il monza possa aver contattato ribala quello ci credo abbastanza può essere successo anche perché magari loro dicono non succede ma se succede e quindi una chiacchierata si può fare quanto più che di bala possa accettare la destinazione monza tra l'altro atletico madrid che era una delle squadre che sembrava essere interessata paolo di bala una delle poche squadre estere che aveva mostrato un interesse per paolo di bala e alla fine anche qua mi viene da ridere nel senso che se poi alla fine loro si prendono bernardeschi e di bala viene sondato al monza cioè nella mia testa ragionando sui due calciatori che viene umana alla stessa età un 94 93 e immaginando i livelli dei calciatori dato che li abbiamo visti entrambi la juventus e hanno fatto cose diverse bernardeschi mi sembra più adatto al monza di bala più l'atletico anche se forse anche l'atletico probabilmente un po di fatica lo andrebbe a fare perché comunque la concorrenza di davanti è molto alta è situazione delicata quella di di bala mi viene a pensare che in questo momento davvero abbia l'inter come come offerta vera e propria non dico nemmeno concreta perché come ben sappiamo in questo momento ci sono dei problemi vediamo se si va a inserire pure il milan c'era stato il tentativo della roma ricorderete ma si è concluso tutto con un niente di fatto sarebbe comunque sicuramente monza la destinazione più clamorosa in assoluto io faccio anche un po fatica a crederci per me ma per il fatto che accetti di bala non per altro dell'it dell'it allora ieri ragionavamo un po sul gruppo un ragazzo mi ha mi ha scritto un bel messaggio sul gruppo riservato agli abbonati di telegram negli abbonati di twitch ovviamente il gruppo su telegram e mi ha chiesto ha chiesto a tutti in realtà voi che siete un po più vecchi avete memoria storica di un mercato dove potrebbero esserci così tante eccessioni anche importante quelle che abbiamo detto prima di bala dell'it chiellini bernardeschi morata chi più ne ha più ne mette quelli che usciranno quindi un mercato in uscita così massiccio è un mercato in entrata altrettanto massiccio perché è difficile ricordare una sessione di mercato in cui doveva completare così tante operazioni la domanda interessante mi ha fatto piacere leggerla e un ragazzo ha dato un'altra risposta interessante dicendo l'unica sessione di calciomercato in cui ricordi di questo tipo è quella del 2005 2006 anzi 2006 2007 dove la juventus deve preparare la squadra allestire la squadra per la serie b e quindi cercare di vendere giocatori che in serie b non sarebbero mai arrivati e comprarne altri che in serie b invece potevano fare la differenza bella risposta bella domanda verità assoluta perché effettivamente è difficile pensare a una sessione così rivoluzionaria per farvi un'idea del ciclo dei nove anni no a me viene sempre da pensare la stagione post berlino dove se ne vanno tevez pirlo vidal e davvero pochi altri non tanti altri arrivano manzukic arriva chiedira sono arrivati sicuramente anche altri che ora non ricordo però stiamo parlando di pochi colpi quadrado stesso un prestito pereira no pereira c'era pochi colpi comunque non chissà che cosa erano il profeta arnanes come dimenticare il profeta arnanes però nella nostra testa erano delle vere e proprie rivoluzioni o ancora l'anno successivo no quello che ci porta a cardiff e cioè danni alves il riscatto di quadrado benatia iguain pianic piazza e sono sei ora considerando anche i ritorni dei prestiti quindi eventualmente fagioli considerando che miretti sarà in pianta stabile in prima squadra quindi non sono dei veri propri acquisti ma quasi così come lo stesso gatti che è un acquisto di gennaio ma sono giocatori che non dico che non abbia mai giocato nella juve ma quasi perché fagioli ha fatto una presenza due forse tra serie a e coppa italia miretti ne ha fatte tre o quattro in serie a quindi sono giocatori comunque inediti ma lasciando stare questi i vari cambiaso qualora dovesse rimanere alla base i vari pogba di maria che è un ritorno ma è un ritorno lontano nel tempo più tutti quelli che dovrebbero arrivare quindi il vice vlaovic eventualmente uno tra zagnolo e kostic se non tutti e due dei centrali difensivi iniziano essere ragazzi quasi otto nove forse dieci colpi sono tanti sono tanti e lo dice la storia della juventus non lo dico io lo dico posso dirlo anch'io ma vale fino a mezzogiorno quello che dico invece la storia della juve che dice che tutti questi colpi una singola sessione tra entrata e uscita non si era mai registrati se non in quel caso particolare dove bisognava rifare la squadra per un'altra categoria ci fa capire quanto ci potremmo divertire non dico nemmeno questa estate perché dopo domani inizia il ritiro e quindi vuol dire che la juve sta già preparando la prima partita di fuori agosto contro il sassuolo vi parlo del prossimo mese perché poi in agosto sarà necessario nelle ultime due settimane da quando inizia il campionato quando finisce il mercato aggiustare che ne so ti manca il vice pogba la butto lì anche se sapete che a centrocampo dubito che ci saranno altri ingressi e ti concentri sul vice pogba anche se per dire come sarà fagioli però vediamo insomma prossimo mese un mesetto abbondante 40 giorni secondo me ci divertiamo perché giorno dopo giorno ci saranno nuovi nomi da commentare e purtroppo anche eccessioni eccessioni da raccontare come quella di the elite volevo spendere due paroline anche sull'ingaggio di the elite sulla questione lukaku e roba del genere ma non c'è più tanto tempo perché tra poco il mio treno parte quindi magari ne parliamo nei prossimi video magari con qualche ospite ragazzi ci vediamo a roma se siete a roma venite a fare un salto